ciao a tutti pischelli e benvenuti in questo nuovo episodio di portal story mill e signori signori andiamo avanti con la storia vediamo cosa succede i kind of have a bit of bad news yeah yeah i know you don't want to hear any more bad news after the security override i couldn't do my records of this sphere are out of date to say the least there should be an exit after the third section of this test however i don't know it getting there will be that easy you got it in you though you're my Olympian who might not have a beating heart ma allora ok allora dovrò sparare prendere il rincorso uscire da qui e saltare di là ok lanciamo un po di roba la sopra facciamo così andiamo qui e poi dovremo correre di là in teoria ce la dovremmo fare no ah c'è una petana qua non l'ho mica vista quindi dov'è il cubo ah cubo ok sono rincognito scusate è di prima mattina posso ragionare guidato ok ce la possiamo fare eh allora di qua yuhu vai vai ciccio vai ciccio wow 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 panico panico signori panico allora ah e poi ah mamma si come come ci arrivo lì sopra acqua ah ok non capisco ancora eh scusate ma eh 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 guarda ok siamo saliti qua sopra e dobbiamo ah ok ok quindi eh blu lo lasciamo lì dobbiamo spararci ah ok quindi devo fare tipo una roba devo fare una roba tipo vediamo se riesco a vedere l'unico quello ok e poi uscire da qua ok si 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 potrebbe fare però poi che mi porto sul cubo quindi devo metterlo prima lì salire qua sopra e no come faccio però aspettate eh allora non mi capite vabbè posso smerdocchiare un po' qui perché sicuramente dovrò saltare di là e fin lì ci siamo arrivati però io come faccio ad arrivare di qua col cubo ehm ah salto aspetta e io scendo prendo il cubo e sparo un portale torno qua sopra eh come ci posso tornare se non ho devo riportare il cubo prima lasciare aperto un portale là quindi devo lasciare aperto il portale qui arancione facciamo così quindi qua sarò il blu ok così e ok si adesso lo metto qua poi da qui devo tornare di là e sparare un po' di roba là sopra quindi ehm blu ok vediamo andiamo qua ottimo ok adesso facciamo così e ci siamo ok 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 sto carburando sto carburando tranquillo qua ah sotto sotto ok quindi andiamo sotto sotto qua poi qui c'è un cosa sopra e la in cima quindi facciamo così ok e dobbiamo andare di là però ah ok lo vedo qua fantastico quindi mi lancio e sparo il blu ok ok wait a second i'm i'm getting some strange voice coming through i'll patch it through ok scanning lima whiskey 70% complete no vital signs detected initiating flooding procedure that's coming up that's coming up that's coming up from new api what's my scans are going nuts something's happening the sphere is unstable get out of here go on ok mi disabilita quella ok poi si sparo un portale là e sparo un portale qua quando cado dovrei sparare un blu wow 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 ok perfetto ok scusate ma adesso dovrei smerdocchiare là ok perfetto perfetto adesso se io io si faccio così vado di là così e così no eh sì ciao qui qui e qui ok e faccio questa cosa di prima in teoria vorrei riuscire a fare questa cosa andiamo allora basta solo da qua no aspetta 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 mi manca qualcosa ah forse prendo la rincorsa ah ok prendo la rincorsa da qui e mi lancio da là giusto Ok, calma Stiamo calmi Agitazione, agitazione Adesso scendo Faccio così Faccio così Smerdocchio un po' in giro qua Ok, adesso Blu Giusto? Potrebbe funzionare? Non ne ho idea, signori Andiamo Si chiude il portale, va vero Questa cosa non era calcolata Quindi Ah, ma lo so qua c'è un bottone Non ho mica visto, signori Eh, da qua non mi dite niente Qua c'è un bottone, cazzo di puta Non ho mica visto Eh, l'ho detto, è la prima mattina, signori Non è che posso Avere la mente proprio fresca fresca Ok, così Eh, eh, eh Eh, 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 eh Però Devo prima Mettere un bottone No, non posso farlo Quindi, così Mettere questo Mettere questo Ah, ma si è per... Che cazzo Allora Vabbè, proprio Proprio, eh Proprio Non ce la facciamo stamattina Ok Forse ho sbagliato qualcosa Ok Abbiamo sbagliato qualcosa Mi sa, eh Mi apre quello E cosa mi serve? Non ho preso abbastanza velocità Sì, no Ok Cioè Teoria Ci stavo arrivando Ah, infatti Abbiamo preso abbastanza velocità, signori Olè L'abbiamo fatta Ok Prossima canale di test Vediamo un po' Cosa ci aspetta Eeeh Oh Grazie Grazie Oh Sto facendo un casino qua Cos'è? Cos'è sto casino? Allora Devo scendere di qua Ok Ok Poi dovrò andare di qua Ok Non è sicuro, eh Ok Andiamo su Di qua Oh, c'è l'acensore Oh, c'è l'acensore Dai Ascensore Oh Il posto sta esplodendo Le rocce stanno seguendo in ogni posto E tu stai prendendo l'elevator Che cosa si stava? Che cosa se il potere si fu fuori? Ehi, sei chiesto Eh, vabbè Cioè Eh Sì, nel senso Allora Eeeh Di 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 Chi è l'uscita? Di qui Qui? Di scendere di qua No, scendere di qua? Dove vado? Oh, merda Aspettate Ah, di qua Ok, non capivo Non capivo, scusate L'ho detto prima mattina Allora Grazie Grazie, grazie, grazie Qui Ok Davanti Buongiorno Salve Dopo orno Mi sa che c'è un casino qua Eh Sì Mi sa che devo andare a prendere Ah C'è acqua qua Ok Eeeh Qua No Dove la metto? Ah, qua Eh, ci c'è il culo Madonna, esplode tutto Wow Se tu avessi stato là un po' di secondi prima Ti avessi stato incinerato Eh Grazie al maker Tu avessi stato incinerato Ah Ho bisogno di un muscolo Fantastico Qui fuori 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 Di qua Che figata l'ambientazione Veramente Ok, scendiamo Scendiamo, 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 scendiamo Scendiamo, scendiamo, scendiamo No, di qua, di qua Di là di no Di qua Frecce che indicano Esperimenti di scopo Ok Ok Buona notizia Eh, hey Questa notizia Eh, hey Questa è esplosata Ok 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 Andiamo qua sopra Ok Signori Io direi che ci vediamo nel prossimo episodio Ok Da Blackadder tutto Vedi Mi resta un pollice su Ciao ciao